Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su quella piatta, porno ma viola, dovevate il live tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Oggi vi presento la mia personale lista preferita di Wonder Kid, approfittando dell'ultima versione del database, quindi è una lista aggiornata che potrebbe essere differente chiaramente dalle prime liste che sono uscite quando il gioco è stato distribuito per la prima volta quest'anno nei negozi. La prima cosa che va detta quando si fa una lista di Wonder Kid su FM è che i giocatori molto giovani nella stragrande maggioranza dei casi hanno un potenziale variabile. Questo vuol dire che a differenza di altri giochi non sempre diventeranno forti gli stessi giocatori molto giovani, ma dipende da save a save. Quindi almeno per quanto mi riguarda bisognerebbe prendere in considerazione solamente giocatori o con un potenziale fisso, in quei casi molto alto, o comunque giocatori con un potenziale sì variabile ma molto alto, altrimenti si rischia di dare chiaramente dei consigli un po' sbagliati. Facciamo un esempio pratico e molto clamoroso. Sebastiano Esposito ha un potenziale che va da 140 a 170, considerate che il massimo di potenziale è 200. Capite bene che se beccate il Sebastiano Esposito con potenziale 140 significa che se anche raggiunge quel potenziale potrebbe comunque faticare a trovare un posto da titolare in una squadra che compete anche semplicemente per lo scudetto, mentre se beccate nel vostro save il Sebastiano Esposito con potenziale 170 e lo raggiunge, voi avete a che fare con un giocatore che non solo farebbe il titolare in qualsiasi squadra del Globo Terraqueo, ma farebbe gola a tutte quelle squadre che vorrebbero vincere la Coppa dei Campioni, ovvero la massima competizione europea e soprattutto quella più difficile da vincere su FM21. Un altro aspetto che dovete tenere presente è la distanza tra capacità attuale e capacità potenziale, cioè la situazione in cui si trova il giocatore quando iniziate il vostro save e la situazione finale dove potrebbe arrivare il giocatore. Se la distanza tra questi due valori è superiore a 60 e voi avete a che fare con un giocatore di 20 anni, è chiaro che difficilmente riuscirà a raggiungere il gap. Se invece voi prendete un giocatore che ha 15-16 anni e deve recuperare 60-70 punti, allora è comunque fattibile che ci riesca, quindi mi raccomando tenete presente questi aspetti quando scegliete su chi puntare. Partiamo quindi dai portieri, il primo nome che vi faccio è quello di Vanderbilt che gioca in Belgio e ha anche nazionalità belga. Ha 18 anni, quindi la sua scheda all'inizio è un po' grezza anche perché la sua capacità attuale è molto bassa sotto il 110, però ha un range potenziale che va da 150 a 180, quindi potrebbe essere come minimo un futuro buon portiere o addirittura un fuoriclasse. Mi raccomando però, se giocate nei top 5 campionati prendetelo subito, non fatelo stare troppo tempo in Belgio perché più tempo resta in un campionato minore e più farà fatica ad aumentare subito le sue capacità perché è molto importante far giocare i giocatori dei campionati difficili, altrimenti ci mettono più tempo per crescere. Questo portiere invece del Leeds è un giocatore di 20 anni, quindi due anni in più, ha una scheda notevolmente migliore all'inizio, con una capacità attuale sopra i 130, ma ha un potenziale fisso non variabile di 158, quindi sicuramente è un altro elemento su cui puntare. Il terzo elemento che vi propongo in questa lista come portiere è Diogo Costa, portiere portoghese del Porto, con una capacità potenziale anche qui fissa di 155, però abbiamo a che fare con un portiere un po' più basso, ben 10 centimetri in meno rispetto a quello precedente. Passiamo a un portiere spagnolo, di proprietà dell'Atletico di Madrid. Potenzialmente questo ragazzo potrebbe diventare un fenomeno, il suo range potenziale varia da 140 a 170, ha una capacità attuale però veramente bassa, come potete vedere la scheda è veramente grezza, però ha tutto il tempo per poter raggiungere anche il suo picco massimo, perché ha solo 16 anni. Tra l'altro potrebbe diventare anche lui un portiere libero se migliorerà il controllo palla veramente vergognoso e la visione di gioco. I passaggi ci sono già. L'Atleti Club di Nubao su FM21 sforna un sacco di talenti, sia Reali sia Regen. Questo ragazzo parte con un'età di 16 anni. La capacità attuale, come potete immaginare, è veramente bassissima, come si vede dalla scheda, ma il suo futuro è radioso tanto quanto quello del portiere dell'Atletico di Madrid. Anche qua il potenziale varia da 140 a 170. Passiamo ora ai difensori centrali. Il primo nome che vi faccio non è quello di De Ligt, ma non perché non voglia farvelo. Chiaramente è il miglior wonder kit tra tutti i difensori centrali, però mi sono voluto concentrare a schermo vedendo le varie schede solamente sui giocatori con massimo 20 anni. Per questo in porta non avete visto neanche Donnarumma che parte appunto già con 21 anni e sedo un classe 99. Partiamo quindi da Wesley Fofana, un giocatore davvero interessante che potrebbe già giocare titolare in tantissime squadre che puntano già in alto. È un ottimo difensore che imposta. Non è bravo semplicemente in quelle caratteristiche tipiche del difensore centrale, ma soprattutto è bravo anche nella visione, nella tecnica, nei passaggi, nel controllo palla. Quindi lui sa impostare, ma non è questa l'unica chicca. 13 in accelerazione, 15 in velocità. È un giocatore che può giocare anche con difese altissime e se dovesse migliorare ulteriormente l'accelerazione, questo potrebbe diventare persino un terzino interessante per chi ha senza palla e ha anche i cross minimo a 11. Quindi potrebbe anche essere trasformato il ruolo di questo ragazzo che ha un potenziale fisso di 165, veramente molto alto. E passiamo a Eric Garcia, un giocatore spagnolo che gioca nel City. Poteva mancare nel City un difensore promettente che sapesse giocare il pallone con i piedi? Ovviamente no, perché c'è Guardiola che fa partire sin dal basso le sue azioni. Guardate come sono atti i bisogni di gioco, tecnica, passaggi e controllo palla. È chiaramente anche lui un difensore che imposta. Un giocatore che però deve migliorare un po' le qualità tecniche perché 13 in coppi di testa, contrasti e marcatura obiettivamente sono un po' pochi per un difensore centrale. Ma visto che ha grandissime qualità mentali e visto che l'altezza obiettivamente non è molto buona, potrebbe essere anche impiegato come centro mediano metodista. Kubula è un altro difensore centrale con capacità potenziale superiore ai 160. È un po' diverso rispetto ai difensori visti in precedenza perché Lex è la Sverona e è un giocatore che non è subito utile per impostare perché visioni di gioco e controllo palla sono un po' bassi. Così come sono un po' bassi anche accelerazione e velocità per giocare con una difesa alta. Ma attenzione, lui rispetto agli altri è già fortissimo così come è a 20 anni per fare il difensore centrale vero e proprio. 16 in coppi di testa, contrasti, marcatura, intuito e posizione sono veramente assurdi come valori. In più è alto 1,91 m e pesa già più di 80 kg. Anche questo difensore ha un potenziale fisso. Nella fattispecie proprio 160. È di proprietà dell'Atletico di Madrid ma è impresso nel primo anno quindi non si potrà acquistare sin da subito. Ha delle caratteristiche mentali veramente altissime e forte anche a livello fisico ma deve migliorare un po' quel colpo di testa. Per quanto riguarda le sue capacità difensive prima di poter impostare deve migliorare il controllo palla e la tecnica. Questo così come i prossimi due difensori centrali che andremo a vedere adesso sono tutti ragazzi con range potenziale che va da 150 a 180. Se li trovate quindi con il potenziale massimo saranno sicuramente delle stelle incredibili. Questo ragazzo però mi deve migliorare nella fattispecie nella posizione che obiettivamente è un po' troppo basso anche se ha comunque 18 anni quindi ha davanti a 70 anni per poter migliorare. Ha una qualità fisica molto importante tranne nell'agilità e molto forte anche a livello mentale. Il primo anno però è in prestito quindi non può essere subito acquistato. È di proprietà dell'Ipsia ma nel primo anno lo troviamo in questo Dinamo di Zagabria. Questo ragazzo francese di proprietà del Bayern Monaco è potenzialmente uno dei migliori difensori che impostano ma per fare questo ruolo deve migliorare sicuramente quelle decisioni a 10 e quell'intuito a 10 però anche lui ha 18 anni quindi ha il tempo per migliorare. Sono anche molto bassi come classico difensore centrale anche i valori in marcatura e in contrasti fisicamente invece sta messo molto bene tra l'altro un metro e 87 per 83 kg. Tra l'altro questo è disponibile anche in prestito. Anche Bright è di proprietà del Bayern Monaco che evidentemente ha un futuro radioso per la linea di difesa. È un giocatore molto forte a livello fisico potrebbe essere allenato sin da subito anche come terzino deve però migliorare in questo caso soprattutto il senza palla e i cross. Poi come difensore centrale c'è sempre questo classico problema in Germania ovvero il colpo di testa davvero molto molto basso. Non so per quale motivo ma spesso mi capita di trovare difensori centrali interessanti ma con colpi di testa bassi in questa nazione. E passiamo al reparto dei terzini. Dobbiamo subito dire che sulla sinistra troviamo nomi più interessanti rispetto che a destra ma soprattutto i primi due nomi che vi farò vedere in questo reparto sono veramente devastanti. Potenzialmente però perché attenzione entrambi hanno un potenziale variabile anche se è molto alto che va da 150 a 180. È chiaramente un giocatore dalle spiccate doti offensivi ha anche delle ottime skill per poter andare in avanti. Entra nell'avversaria va avanti appena possibile è un giocatore forte fisicamente già 15 in accelerazione già 15 in velocità 14 in resistenza ma anche mentalmente delle statistiche incredibili. Attenzione già senza palla a 13 ma non è finita qui a livello tecnico ha già dribbling e cross molto alti cioè vuol dire che questo ragazzo potete già trasformarlo addirittura come ala. Lo sapete insomma che è più difficile trovare delle aline proprie su fm questo potrebbe diventare un'ala assolutamente devastante. Tra l'altro contrasti 13 marcatura 12 e posizione 12 vuol dire che questo ragazzo sa fare anche la fase difensiva e soprattutto a 10 in finalizzazione. Non è finita qui 9 in colpo di testa con 13 in forza e 11 in massima elevazione non sono affatto pochi per un terzino soprattutto se teniamo conto che è alto 1 e 84 e pesa già 79 kg. Questo è un autentico fenomeno. Alfonso Davis ormai lo conosciamo tutti è stato uno degli eroi dell'ultima Champions vinta dei bavaresi. Questo ragazzo però non è assolutamente come quello di prima. Mendes è un giocatore da sversale sa fare tanto la fase difesa quando quella offensiva. Alfonso Davis invece deve essere utilizzato solamente con compiti offensivi quindi terzino futificante d'attacco essendo compito d'attacco o addirittura ala anche perché rispetto a Mendes ha un'accelerazione e una velocità ancora più alte ma soprattutto ha la skill del prova finta e mostra sorpresa per scartare l'avversario. Questo va messo in una posizione in cui davanti a lui non ci deve stare nessuno per poter esplodere completamente su quella zona di campo. Con compiti difensivi farebbe tantissima fatica perché contrasti, marcatura e posizione sono troppo bassi. Tra l'altro non può aiutarvi nemmeno sui calci piazzati a colpire di testa né in fase d'attacco né in fase difesa perché i colpi di testa sono bassi così come la forza e così come la massima elevazione. Luke Thomas, terzino dell'Eister, è un giocatore veramente capace di fare tutto in questa zona di campo. Terzino, terzino futificante, esterno completo, è un giocatore che non ha un evidente punto debole ma volendo dovrebbe migliorare un pochino quel senza palla. Per il resto è veramente un giocatore che può darvi anche una mano sulle palle inattive. 13 in calcio d'angolo, 13 sui calci piazzati. Spostiamoci adesso sulla fascia destra. Questo ragazzo del Chelsea è veramente un jolly, può essere utilizzato tanto come terzino, tanto come centrocampista. Attenzione però più con compiti di supporto piuttosto che d'attacco. Volendo può fare anche bene alla fase difesa perché ha contrasti, marcatura e posizione, però per i compiti offensivi pecca soprattutto con quell'11 soltanto in dribbling e con quel 7 in finalizzazione. Lui però può essere utilizzato anche sulle palle inattive. 14 in calci piazzati con calcio a effetto come skill che voi sapete essere ormai una skill che può essere solo trasferita, non può essere una skill insegnata. Quindi col tutoraggio li potrebbe trasferirla anche a un suo compagno. Tariq del Brighton ha una scheda veramente grezza all'inizio. Spiccano solamente le qualità fisiche in accelerazione, agilità e velocità ma lui ha un super potere rispetto ad altri terzini, ovvero ha un potenziale fisso, quindi non variabile. In ogni save lui avrà sempre un potenziale di 165 che è veramente alto. Chiaramente però bisogna subito crederci perché all'inizio ha delle lacune da un punto di vista tecnico e mentale, però io vi dico la verità più che terzino futificante lo allenerei subito come ala, anche perché non mi convince tantissimo in contrasti, marcatura e posizione. Ad ogni modo potrebbe anche diventare un ottimo terzino futificante ma va subito allenato in questa posizione. Questo ragazzo del Norwich ormai lo conosciamo benissimo, è un wonder che di già da qualche edizione di FM, è molto forte a livello mentale e fisico. A livello tecnico spiccano soprattutto i contrasti e la marcatura come valori molto alti, ma attenzione anche al dribbling e al senza palla, quindi è un giocatore che può essere utilizzato tanto con compiti difensivi, tanto con compiti di supporto. Il suo, diciamo, punto debole è la finalizzazione ma anche l'altezza e il peso, lasciano un pochino a desiderare. Anche Pedro Porro si trova nello sporting ma è in prestito dal City, quindi nel primo anno non si può acquistare. Il discorso che dobbiamo fare con lui è lo stesso che abbiamo fatto con Alfonso Davis, ha soprattutto spiccate doti offensive, quindi meglio come terzino futificante d'attacco, come stanno compiti d'attacco o meglio ancora perché non trasformarlo in ala visto il senza palla veramente assurdo e anche le doti fisiche davvero molto alte, perché con marcatura 8 secondo me farebbe veramente fatica come terzino vero e proprio. Accantonato il reparto difensivo ci spostiamo in avanti e analizziamo il centrocampo, soprattutto quello centrale. Qui sostanzialmente ho voluto creare tre gruppi, il gruppo dei giocatori sulla mediana, il gruppo dei giocatori sulla linea di centrocampo e il gruppo dei giocatori sulla tre quarti. Quindi insomma avremo tre gruppi diversi con giocatori che è chiaro potrebbero anche far parte di più gruppi, però analizzeremo in questa zona di campo adesso soprattutto quei giocatori che hanno capacità difensive, oltre magari anche a capacità di impostazione, quindi qui ci rientrano soprattutto in questo gruppo che ho creato giocatori abili in contrasti, marcatura, posizione, poi che possono fare altro tanto meglio. Partiamo quindi con Sandro Tonali. Questo giocatore del Milan è un Wonder Kid già da diverse edizioni a questa parte, quindi so che lo conoscete tutti, ma questo ragazzo ha due punti di forza non indifferenti. Uno ha già una scheda ottima per giocare, chiaramente titolare in un top club, due ha un potenziale fisso molto alto, 168. Tra l'altro è abile anche sulle palle inattive, soprattutto calci d'angolo e punizioni. È chiaramente un palleggiatore, ha bisogno di gioco, tecnica, passaggi, controllo palla, però non è un giocatore che può giocare più in avanti, almeno non all'inizio, perché come regista avanzato pecca in agilità e in fantasia. Quindi anche se in questa zona di campo esiste per esempio il ruolo del regista regista che è più affine al regista avanzato, lui non può farlo almeno inizialmente proprio perché pecca in queste due qualità. È chiaramente un regista retrato, non è un giocatore che può giocare come centrocampista di quantità o come mezzala, almeno all'inizio, almeno che non lo si allena chiaramente in quelle che sono le sue carenze. Lui non è un giocatore di movimento per l'appunto perché ha un sezza palla molto basso. Passiamo dunque a Gabriel Menino, un giocatore brasiliano senza però passaporto secondario europeo, quindi verrà sempre considerato come extracomunitario qualora vogliate portarlo in Europa. Questo però è un giocatore veramente speciale perché è veramente d'utile, può fare veramente qualsiasi cosa. Quello che diventerà lo deciderete voi. A differenza di Santo Tonari per esempio lui ha un movimento senza palla pari a 12 che vuol dire che potrebbe diventare anche un secondo mediano, così come potrebbe diventare, se lo allenerete bene, anche come centrocampista di quantità. Potrebbe persino diventare un terzino frutificante sull'outi destra. Questo perché ha 12 in cross, 12 in dribbling, quindi sa saltare l'uomo. Attenzione, è a 19 anni, quindi per questa età 13 in accelerazione e 13 in velocità sono ottimi per un giocatore di movimento. Tra l'altro è abile sia nel destro che nel sinistro. Insomma, un giocatore da non farsi scappare. Anche lui ha lo stesso potenziale fisso del signor Santo Tonari. Florentino Luis è un giocatore portoghese in presidio dal Benfica al Monaco, quindi anche qui dovete fare a meno di lui per il primo anno perché è già impegnato con un'altra squadra. Attenzione però perché contrasti e marcatura sono molto alti, molto alti sono anche le qualità mentali e anche quelle fisiche. Stiamo parlando di un giocatore alto più di 1,80 m, più di 70 kg di peso ma con personalità cittadino modello. Lui crescerà sicuramente, anche lui ha un potenziale fisso molto importante ma è molto diverso da tutti gli altri centrocampisti che abbiamo visto finora perché lui è adatto solamente a compiti difensivi o al massimo per quei ruoli in cui viene chiesto di uscire pallaterra dalla difesa ma non è assolutamente un regista arretrato perché visioni di gioco, tecnica e passaggi abbiamo detto sono troppo bassi. Ad ogni modo con quel contrasto e quella marcatura ci fa capire che può essere utile come mediano incontrista, come incontrista, come centrocampista difensivo o al più anche come centromediano metodista però ripeto qua deve migliorare un po' dal punto di vista tecnico. Non è capace di battere calci piazzati e calci d'angolo però attenzione i rigoni non sono bassissimi e potrebbero comunque salire quindi potrebbe essere utili in quelle squadre che magari arrivano in una finale, in una competizione importante. Edoardo Camavinga, giocatore francese che milita in una squadra francese che non è fortissima ma che difficilmente ve lo cede se non cacciate veramente tanti 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 milioni perché? Perché lui signore e signori è il miglior centrocampista di FM, ha un range molto alto ma variabile di potenziale che va da 170 a 200, se vi beccate quello con 200 di potenziale in pratica avete dio in terra al centrocampo è un giocatore che può fare qualsiasi ruolo, lo deciderete voi cosa diventerà a 17 anni, ha tutto il tempo per sprigionare questo potenziale, regista, regista vantato, centrocampista di qualità, mezzala, lo decidete voi. Parliamo sempre di centrocampisti ma ci spostiamo un po' più avanti sulla linea di centrocampo e parliamo di Moriba, talento del Barcellona, un giocatore con un potenziale altissimo ma anche per lui variabile, stavolta però da 160 a 190, ha comunque solo 17 anni quindi ha tutto il tempo per raggiungere il suo picco di massima, anche per lui parliamo di un giocatore forte fisicamente, alto più di un metro ottanta con ottime qualità fisiche ma spiccano soprattutto quel 17 in fantasia e quel 16 in tecnica che unito al 14 in agilità ci fanno capire che lui è un regista avanzato. Non lo vedrei quindi almeno all'inizio come regista arretrato perché i contrasti, marcatura e posizioni obiettivamente sono un po' troppo bassi. Volendo se lo allenate come mezzala potrebbe diventare anche una buona mezzala, ha tra l'altro anche il core spesso con la palla al piede utile anche per quel ruolo, tra l'altro siccome ha anche prova finta e mossa sorpresa per scartare l'avversario potrebbe giocare anche come C.O.C. sulla tre quarti o come regista avanzato sulla tre quarti. Volendo potreste metterlo anche in questa posizione ma solo nel ruolo di regista vero e proprio, ovvero un giocatore che non deve preoccuparsi di compiti difensivi ma solamente di lanciare i suoi compagni. Tuttavia perché limitarsi a metterlo in questa posizione? Meglio avanzarlo anche perché ha questa finalizzazione di 13, quindi io lo metterei sulla tre quarti o sulla linea di centrocampo. Vitor Ferreira, giocatore portoghese, per il primo anno però non si può andarlo ad acquistare perché è in prestito dal porto al Wolverhampton in Inghilterra, è un giocatore che però è molto d'utile, può fare sia il ruolo di palleggiatore sia il centrocampista di quantità o la mezzala. Dovete decidere voi, è abile tanto in impostazione e tanto come giocatore di movimento, 13 in senza palla, 12 in accelerazione e 13 in velocità. Quello che non mi piace francamente di questo ragazzo è l'altezza e il peso, un po' bassi per i miei gusti. Dominic, giocatore dell'Ipsia, è un giocatore trasversale, può diventare quello che volete, potrebbe persino cambiarsi di posizione e giocare come ala perché ha accelerazione, velocità, controllo palla, cross, dribbling, quindi sa saltare l'uomo e sa mettere traversoni, tra l'altro ha un ottimo senza palla. Tuttavia l'agilità non è proprio eccezionale, quindi va sicuramente migliorata. È un giocatore tra l'altro che sa usare entrambi i piedi, che è alto più di un metro e ottanta, che pesa più di ottanta chili, quindi mi raccomando, centrocampista centrale, regista, persino ala, dovete decidere voi, ma non sprecate troppo tempo, indirizzatelo subito in un ruolo, se no rischia di buttare un po' di statistiche a destra e sinistra e non specializzarsi in qualcosa di specifico. Ci spostiamo sulla tre quarti, non possiamo certo non partire da Joe Felix, talento cristallino anche in real life, uno dei migliori giocatori in questa zona di campo, è stato pagato tantissimo e gli vale tutti quei soldi perché lui è un calciatore unico, forse uno degli ultimi fantasisti realmente presenti sulla scena mondiale. Fantasia 20, visione di gioco 16, tecnica, passaggi, dribbling, controllo palla, o lo mettete come regista avanzato o come ADS perché può tranquillamente fare anche la punta e proprio per questo volendo potreste metterlo proprio come punta completa o come tre quartista. Questi due ultimi ruoli sono difficili, normalmente da trovare, magari possiamo pensare a Dybala, ma lui è davvero un talento stratosferico. Phil Foden, così come Joe Felix, ha un potenziale fisso di 175, veramente altissimo, lui però è difficile da stradicare dal CD che chiaramente se lo tiene stretto, è un calciatore però un po' diverso da quello precedente perché, come potete notare, accelerazione, agilità, velocità e resistenza sono decisamente più alte, quindi lui sì che potrebbe essere trasformato con efficacia maggiore come attaccante esterno, però secondo me come regista avanzato ha sicuramente il suo perché, io lo vedo più in questa posizione di capo, chiaramente però voi potete trasformarlo anche in altro. Pedri, altro talento blaugrana, un giocatore con un potenziale variabile molto alto che va da 160 a 190, quindi volendo lui potrebbe diventare anche più forte di Joe Felix e l'avete vista la scheda di Joe Felix, ma ha 17 anni quindi può raggiungere il suo picco di massima. Perché ho fatto proprio il confronto con Joe Felix? Perché io vedo questo calciatore molto simile in prospettiva al ragazzo dell'Atletico di Madrid, perché è un giocatore molto estroso, 18 in fantasia, 17 in visione di gioco, tra l'altro anche la finalizzazione non è bassissima per avere 17 anni, quindi potrebbe diventare anche lui un regista avanzato sulla tre quarti, anche un C.O.C. perché ha 15 in senza palla, ma potrebbe diventare come Joe Felix anche una punta completa in attacco o un tre quartista, proprio perché ha anche spiccate doti offensive. Anche Yusuf Demir è un giocatore con lo stesso potenziale variabile di Pedri, ma come potete notare la scheda iniziale è nettamente più scarsa di quella del talento blaugrana. Lui però è un giocatore che potrebbe giocare sulla tre quarti come regista avanzato, come centrocampista offensivo, potrebbe diventare anche un attaccante di sostegno, dipende chiaramente molto da come viene indirizzato, proprio perché il suo potenziale è altissimo, ma i valori alti sono veramente pochi. Come potete però vedere ha spiccate doti anche di movimento perché accelerazione, agilità, velocità senza palla, però ha anche dribbling per andare a saltare l'uomo. La visione di gioco è un po' bassa, ma non è un problema per il regista avanzato, perché per il regista avanzato è più importante la fantasia, ovvero la capacità di mettere in porta i propri compagni, laddove invece la visione di gioco è la capacità di capire come si muovono i tuoi compagni per dettare i tempi, far partire da dietro le giocate. Ad ogni modo puntateci subito su questo calciatore perché viene via anche per pochi spicci, rispetto chiaramente a quelli che servono per comprare quelli che avete visto in precedenza. Questo ragazzo mi piace davvero tantissimo perché abbina qualità a movimento, ma soprattutto sa utilizzare tanto il sinistro quanto il destro e soprattutto è un giocatore che è alto più di 1,80 m, pesa più di 70 kg. Quello che non mi piace è che mancano delle skill, delle caratteristiche giocatore, qui chiaramente dovrete pensarci voi. Potete metterlo tanto sulla zona laterale quanto su quella centrale. Come centrocampista offensivo lo vedrei io, non come regista avanzato, perché la visione di gioco e la fantasia restano comunque bassissime. Abbiamo detto che tra l'altro la fantasia è più importante per il regista avanzato piuttosto che la visione di gioco, e comunque un minimo deve sempre essere decente. Abbiamo un giocatore che sa anche saltare l'uomo, è un giocatore che sa controllare bene anche il pallone e anche cross 12. Se riesce a migliorare quindi questo valore un po' di più insieme anche a un po' di più di resistenza potrebbe diventare anche un'ala da utilizzare su entrambe le fasce e volendo potrebbe diventare anche un attaccante esterno perché ha buona finalizzazione e anche eccellente senza palla per essere ricordiamolo un giocatore di 17 anni. Questo ragazzo ve lo consiglio con le pinze, non perché non sia futuribile, ha un ottimo potenziale, però è variabile e soprattutto la sua scheda iniziale è veramente troppo grezza, a parte quel 16 in fantasia, quel valore in dribbling e in controllo palla si può dire ben poco di questo ragazzo, se non che non è utile come centrocampista centrale perché contrasti e marcatura obiettivamente sono troppo bassi, quindi meglio su tre quarti. Siccome però parte con una scheda molto bassa, se non va subito in prestito nei primi anni o comunque se non riuscite subito a prendere da Real Madrid purtroppo rischia di perdersi con grande facilità. Questo ragazzo l'ho visto utilizzato poco nelle varie carriere di FM eppure ha un elevatissimo potenziale, anche se è variabile, da 150 a 180. È un giocatore che però ha l'età giusta per poter raggiungere il suo picco, inizialmente lo possiamo individuare soprattutto come ala sull'out di destra perché comunque considerando l'età ha un'ottima resistenza, un ottimo dribbling e anche un discreto cross, volendo però se viene sviluppato, se viene allenato, potrebbe anche diventare altro, ad esempio un attaccante esterno. Judy Belligam è praticamente un jolly, potete metterlo dappertutto, persino a centrocampo perché i contrasti e marcatura non sono bassi se consideriamo che a 17 anni tenete presente che quando i giocatori sono under 18 ogni singola qualità, se allenata, può salire veramente di tantissimo. È un giocatore che però ho voluto mettere nel gruppo dei giocatori sulla fascia destra perché secondo me questo potrebbe fare anche il regista largo, un ruolo poco utilizzato ma che è molto efficace in questo FM. Avendo però piede destro potrebbe fare anche l'ala, inizialmente i cross non sono altissimi ma saliranno anche quelli. Chiaramente bisogna decidere cosa fargli fare nella vita perché volendo potrebbe fare anche il trequartista e l'ho spesso visto utilizzato proprio in questa posizione o persino potrebbe giocare sull'altro lato e fare l'attaccante esterno sfruttando il piede opposto ovvero il destro per tagliare dalla sinistra verso il centro. Passiamo quindi al talento del Manchester City. Ferran Torres può giocare molto bene sull'auto di destra come ala anche perché ha grandi doti di movimento ma soprattutto grandi capacità di saltare l'uomo e può sfruttare quella capacità molto buona in cross e resistenza che possono tranquillamente chiaramente salire. Non lo vedo assolutamente bene sulla linea di centrocampo perché contrasti e marcatura sono troppo bassi, volendo potrebbe anche essere impiegato come attaccante esterno sull'auto opposto quindi sulla sinistra per tagliare appunto verso il centro e sfruttare il piede destro. Francisco Trincao lo conosciamo già da FM20, lo prendevamo a quattro spicci un po' tutti quanti, adesso però è un talento del Barcellona e chiaramente costa molto di più. Fisicamente non è molto forte, almeno in accelerazione, resistenza e velocità e siccome a vent'anni potranno salire poco quindi piuttosto che vederlo come ala sull'out di sinistra io lo vedo invece sulla destra come ala invertita attaccante esterno. L'ala invertita sfrutta di più il cross quindi si può mettere come ala invertita ma anche come attaccante esterno perché ha grandissima finalizzazione. Dwight del Barley, lo vedrei benissimo come ala invertita sbarra attaccante esterno sulla destra che taglia verso il centro oppure sull'out di sinistra non come ala perché la resistenza è troppo bassa ma come centrocampista laterale che deve fare un po' meno metri obiettivamente dell'ala. Può giocare in questa zona di campo perché i contrasti e marcatura sono decisamente adeguati considerando che possono anche aumentare e considerando anche l'età del giocatore. Pedro Neto, talento portoghese, lo vedo soprattutto in questa zona di campo a tagliare verso il centro come ala invertita sbarra attaccante esterno. Non ce lo vedo bene sull'out di sinistra come centrocampista laterale perché i contrasti e marcatura obiettivamente sono troppo bassi. Non lo vedo neanche più avanzato sull'out di sinistra come ala anche se ce lo consiglia così il gioco perché obiettivamente la resistenza è troppo bassa e avendo già 20 anni difficilmente arriverà a 14-15. Comunque dovesse arrivare a quel valore allora potrebbe diventare anche un ala. Vediamo ora velocemente due ragazzi che militano nello stesso club ovvero la Teddy Club di Bilbao. Hanno lo stesso nome ma hanno cognomi differenti. Hanno però dei potenziali uguali, molto alti ma variabili da 150 a 180. Ve li consiglio velocemente e con le pinze perché le loro schede iniziali sono un po' troppo grezze. Però ripeto, se ci puntate subito, se li acquistate subito, se li fate subito crescere potrebbero diventare davvero molto forti. Questo è Nico Williams. Questo invece è Nico Serrano. Dejan Kuluseski, talento della Juventus, è ormai sulla bocca di tutti. È un giocatore che potrebbe giocare veramente in tantissime posizioni diverse ma perché ho voluto selezionarlo per l'out di sinistra come ala? Perché ha una resistenza veramente assurda. È un giocatore che sa mettere i cross quindi avendo queste caratteristiche anche atletiche potrebbe tranquillamente giocare in questa posizione ma volendo potrebbe anche essere utilizzato sull'out opposto per tagliare sempre verso il centro come attaccante esterno o ala invertita. Il gioco ce lo segnala anche come trequartista nella zona centrale del campo e infatti proprio perché è capace anche di impostare io lo vedrei persino sull'out di sinistra come regista largo. Manteniamoci sempre su questo out di sinistra e parliamo di Anthony, giocatore che è stato acquistato dall'Ajax, un giocatore veramente fortissimo che ho voluto mettere in questa zona di campo per sfruttare la sua resistenza, la sua accelerazione, velocità e capacità di mettere cross. Volendo però potrebbe tranquillamente essere utilizzato anche sull'out opposto per tagliare verso il centro come attaccante esterno ala invertita. Ansu Farti, talento del Barcellona, ha una scheda interessante già adesso che ha 17 anni e pensate che ha un potenziale veramente altissimo ma variabile da 160 a 190. Può giocare in più ruoli diversi ma siccome ha un'elevatissima finalizzazione e senza palla io lo considero soprattutto come attaccante esterno che sulla sinistra si sposta verso il centro. Qua però bisogna aprire una piccola parentesi. Tutti gli attaccanti esterni possono volendo fare i centravanti se hanno ribling, finalizzazione, controllo palla, senza palla, accelerazione e agilità. Non l'ho mai detto in questo video ma chiaramente lo dico adesso. Non l'ho messo come attaccante perché il gruppo di attaccanti è già troppo numeroso quindi volevo dare spazio a questo giocatore sulla tre quarti. Gelozancho come Ansu Fati può essere considerato tanto un attaccante esterno che taglia verso il centro tanto un centro avanti. È un giocatore pericoloso dalla tre quarti in su. Non lo vedo assolutamente bene in questa zona di campo perché i contrasti e marcatura sono troppo bassi e rischiati di avere un 1 in meno quando la squadra è in fase di ripiegamento. Altro talento dell'Arsenal, Gabriel Martinelli è un giocatore che può giocare come attaccante esterno che taglia verso il centro. Potrebbe dice gioco anche diventare centravanti. Per me la finalizzazione è un po' bassina per fare questo ruolo però chiaramente se viene allenato in questa posizione potrebbe salire di concerto. È un giocatore che non può fare l'ala sull'auto opposto perché obiettivamente i cross sono un po' troppo bassi. È chiaramente un giocatore però che deve partire palla al piede perché ha grande accelerazione e grande velocità. Questo talento del Chelsea potrebbe giocare dappertutto su a tre quarti tanto centralmente tanto lateralmente sia a sinistra che a destra. Questo perché ha un ottimo piede sinistro e destro. Lo vedo soprattutto lateralmente come regista largo o come attaccante esterno che taglia verso il centro o ala invertita. Non lo vedo come ala vera e propria almeno all'inizio perché la resistenza obiettivamente è un po' troppo bassa. Non lo vedo sulla linea centrale del campo lateralmente perché? Perché ovviamente i contrasti e marcatura sono veramente ridicoli. Vinicius Junior lo vedo principalmente come attaccante esterno che taglia verso il centro sfruttando il suo ottimo piede destro ma in realtà anche col sinistro mica scherza. potrebbe diventare anche un ala. Questo però richiede di migliorare cross e resistenza. Per il resto ha grandissima accelerazione, agilità e velocità che sono caratteristiche che sono fondamentali in un gioco fisico come FM. Rimaniamo in casa Real Madrid e parliamo di Rodrigo, altro giocatore che io vedo nella stessa posizione di Vinicius come attaccante esterno di sinistro che taglia verso il centro. A differenza però del suo collega ha un piede sinistro un po' più debole ma soprattutto non può fare l'ala perché cross veramente bassi, resistenza almeno inizialmente bassa. Non lo vedo nemmeno utile come regista largo perché la visione di gioco è obiettivamente troppo bassa. Passiamo adesso al reparto d'attacco. Il primo nome non può non essere quello di Mukoku, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto un video su di lui dove abbiamo seguito il suo percorso fino al termine della sua carriera. È un giocatore che chiaramente diventa devastante e il giocatore potenzialmente più forte in attacco di tutto FM. Rimaniamo in casa Dortmund e parliamo di Erling Golland, un giocatore molto diverso da Mukoku perché è molto più forte fisicamente, un giocatore che in aria piccola le prende tutte lui e sa fare una valanga di gol sin dall'inizio è devastante e può ancora crescere perché ha solo 20 anni ma è già molto forte in finalizzazione, senza palla e anche fisicamente ha delle qualità veramente assurde. Alto più di 1,90 m, pesa più di 80 kg, un giocatore da avere per forza se si ha l'opportunità di pagarlo. Anche Mason Greenwood è un giocatore diverso da Erling Golland, deve essere lanciato in ampi spazi aperti per sfruttare la grande accelerazione, velocità e finalizzazione. È un giocatore che non può sfruttare molto il suo colpo di testa, che è veramente molto basso, anche la massima elevazione bassa, anche se poi la sua altezza è comunque importante e chiaramente un centro avanti. Alexander Isaac è un giocatore trasversale che può sfruttare tanto le sue capacità atletiche in accelerazione e velocità, tanto potrebbe comunque far leva sulla sua importante massima elevazione. Il colpo di testa non è ancora altissimo, a 20 anni potrebbe anche migliorare quindi potrebbe essere utile sia come centro avanti sia come uomo d'aria. Obiettivamente però la finalizzazione è un po' bassina, questa va assolutamente migliorata. Vlaovic è uno degli attaccanti più completi che potete trovare tra i Wonder Kid, non ha un evidente punto debole, semmai è l'accecazione che inizialmente è più che sufficiente ma può chiaramente anche migliorare. Per il resto è alto più di 1,90 m, pesa 75 kg, buon colpo di testa, forza, massima elevazione, anche finalizzazione e movimento senza palla sono veramente incredibili, l'impegno ci sta, è un ragazzo prodigio che tra l'altro può essere acquistato senza spendere cifre folli perché sta nella viola. Vediamo adesso una serie di attaccanti tutti con lo stesso potenziale variabile che va da 150 a 180. Partiamo con Jamal Musiala che è un giocatore che può fare tranquillamente il centro avanti, lo capiamo perché è forte atleticamente, ha capacità di saltare l'uomo e fisicamente sebbene sia alto 1,80 m non spicca certo per un gran colpo di testa o una massima elevazione, volendo potrebbe giocare anche sulla trequarti non come ruolo di pensatore, quindi non come punta completa o trequartista ma come attaccante di sostegno centralmente oppure lateralmente potrebbe giocare come attaccante esterno, chiaramente sull'out di sinistro perché può sfruttare il destro come piede per tagliare verso il centro. Fabio Silva è un wonderkid da diverse edizioni di EFM, può essere utilizzato tranquillamente come centro avanti ma potrebbe anche essere trasformato come attaccante esterno, non è chiaramente un pensatore, neanche lui non spicca per fantasia o visione di gioco. Anche Myron Badu ormai è un volto noto da tempo per i giocatori di EFM, è sicuramente un giocatore speciale perché sa utilizzare tanto il destro quanto il sinistro ma soprattutto spicca per la sua grande accelerazione e velocità. Joao Pedro, talento brasiliano del Watford, è un giocatore speciale perché può essere tanto una punta di supporto, tanto una punta principale visto che è considerato che è forte anche fisicamente, è alto più di un metro e ottanta, ha un buon colpo di testa, una buona massima elevazione e soprattutto ha ancora solo 18 anni quindi sono valori che possono ancora aumentare. Tra l'altro è un giocatore che sa anche saltare l'uomo e potrebbe quindi essere impiegato molto bene anche sulla tre quarti come attaccante esterno che taglia verso il centro e sfrutta bene quell'ottimo piede destro. Adeyemi, attaccante molto giovane del Salisburgo, può diventare quello che volete perché inizialmente ha una scheda molto grezza ma si capisce già qual è il suo punto di forza, la grande accelerazione, velocità e capacità di saltare l'uomo quindi potrebbe diventare anche lui un ottimo attaccante esterno. Tra l'altro sa utilizzare bene entrambi i piedi. Come avrete notato la maggior parte di attaccanti che abbiamo visto finora ma anche in precedenza la maggior parte dei giocatori che operavano sulla tre quarti erano in grado di giocare in più posizioni diverse, in più zone del campo diverse. Questo è sicuramente un plus sia durante una partita se si vuole cambiare il modulo, sia durante il corso di un'intera stagione se si vuole utilizzare più moduli. D'altro canto però se un giocatore viene indirizzato subito in un unico ruolo specifico lì può diventare il numero uno perché non va a perdere punti potenziali in qualità che poi potrebbero non servirgli. Quando avete di fronte un giocatore come questo, Dan Scarlett, di soli 16 anni siete voi a decidere cosa potrà diventare. Se lo farete allenare in un unico ruolo lui diventerà il numero uno in quel ruolo. Questa quindi era la lista dei Wonder Kid per FM21, mi sono basato chiaramente su mie scelte personali, su vari save che ho portato avanti da quando è uscito il gioco fino adesso, me li sono spucciati quindi per bene ho visto quali erano i giocatori che realmente poi provavano a raggiungere il loro potenziale. Ovviamente vi faccio scaricare la lista anche con un link che trovate in descrizione a questo video. Il file che troverete lo dovrete spostare semplicemente all'interno della cartella shortlist che è presente in documenti Sport Interactive Futuro Manager 2021 così potrete caricarla normalmente nelle vostre partite e potrete avere anche voi questa lista che sarà molto più ampia rispetto ai nomi, ripeto, che abbiamo visto questo oggi. Così se magari giocate in campionati anche minori avrete comunque dei Wonder Kid utili per quei campionati. Non mi resta quindi altro da fare che salutarvi, ci vediamo al prossimo video su YouTube o se volete insomma potete trovarmi sempre in live su quella piattaforma viola tutti i giorni. Buon salvone!